Quarto comandamento recita onora il padre e la madre. Da sempre chi ha superato un certo traguardo anagrafico conosce quanto è scritto sulle tavole affidate da Dio a Mosè. Molto meno conoscono le leggi sacre molti giovani di oggi che nei confronti di padre e madre non prestano poi tutte quelle attenzioni in cui dovrebbero. Poche sono l'eccezione e soprattutto i vecchietti dopo un certo periodo danno fastidio e molti preferiscono relegarli in un angolo, in un recinto che l'era moderna definisce case di riposo. Riposo si fa per dire se pensiamo a quei poveracci strattonati e picchiati in molte case italiane dove la legge dei fanulloni, inservienti, infermieri, a volte anche medici, predomina. Ma oggi più che degli anziani abbandonati e maltrattati vogliamo tornare sul fatto di cronaca che ha visto due giovani finire in manetti proprio ieri per aver maltrattato, minacciato e poi picchiato i genitori. Due casi diversi avvenuti nella stessa notte nell'Interland di Roma. I protagonisti, tornati a casa ubriachi dopo un sabato sera all'insegna della follia, hanno inveito contro i genitori che li avevano ripresi per l'ora tarda per aver alzato troppo il gomito. Non ci stupiamo più di nulla, ma che si possa minacciare il primo 22 anni e l'altro il 43, un genitore perché te rimprovera è il massimo dell'aberrazione, della dimostrazione che i vagliori familiari sono caduti veramente in basso.